Il gol al 28esimo della ripresa di De Lorenzo, il nocattaro insomma che riesce alla formazione pugliese a superare la squadra della Basilicata e ad uscire un po' dalle zone, attento ecco il gol, guarda qui che rete che fa De Lorenzo, il gol anche della settimana Strepitoso, bellissimo, il portiere probabilmente era coperto da suo compagno di squadra, si tuffa, riesce a toccare la palla ma non riesce Però l'idea è grandissima, è qua Sì, strepitosa davvero, infatti visto anche come l'hanno festeggiato tutti i compagni di squadra Beh comunque posso dire che per il Melfi è una sconfitta